Come costruire un portafoglio che sia eticamente sostenibile? Il portafoglio sicuramente impone rispetto di tutte quelle regole che l'asset allocation strategica e poi tattica suggeriscono, ma può prendere o meglio deve prendere in considerazione anche elementi di solidità che possono essere legati a temi di investimento che stanno attraversando il mondo e dai quali non si può prescindere. La popolazione sta invecchiando, stanno cambiando le abitudini alimentari, sta cambiando il clima, stanno cambiando le geografie industriali che popolano il mondo. In questo caso sostanzialmente stiamo assistendo a fenomeni irreversibili che impongono una riflessione in ottica di investimento, nel senso che ci sono tante aziende e tante opportunità di investimento legate a questi cambiamenti che è giusto che debbano essere ricompresi, ancorché in maniera proporzionale, all'interno di un portafoglio cosiddetto sostenibile. I rendimenti di questi grandi trend, di questi mega trend sono rendimenti evidenti, riscontrati in indici di riferimento che ormai hanno più di 5 anni di vita e di storia e che penso, o meglio sono convinto che debbano essere seriamente inseriti e valutati come opportunità di investimento in un portafoglio sostenibile. Grazie